Buongiorno, si avvicina la Pasqua e io devo fare una colomba ovviamente, però non farò la colomba tradizionale, farò una colomba, una colomb brioche, la chiamiamo così, con l'impasto delle mie brioche, delle mie briochine, salata ovviamente. Quindi mi metto subito a impastare. Ho pesato un chilo di farina perché farò appunto la doppia dose rispetto a quella dei 500 grammi solita, dove ho messo 500 grammi di farina 00 e 500 grammi di una farina un po' più forte di Manitoba, mi metterò un cubetto di lievito, 100 grammi di strutto, 120 grammi di zucchero, 500 ml di latte e un po' di sale, saranno 10 grammi. Per prima cosa prendo la ciotola della planetaria e sciolgo il latte con il lievito. Adesso aggiungo lo zucchero e inizio a mettere anche la farina e poi pian piano lo strutto. Ecco qui, facciamo andare la planetaria e inizio a mettere anche lo strutto. Mettetelo a pezzettini, mi raccomando. Aggiungo il sale. Devo ammettere che in planetaria gli impasti è meglio farli sempre da mezzo chilo, non mettere un chilo perché è molto faticoso poi lavorarla. Io dividerò l'impasto a metà perché tanto mi servirà una metà per fare un rotolo e un'altra metà per farne un altro. Io ho questi che sono ovviamente gli stampi da colomba che trovate online o nei negozi di articoli per pasticceria, ma anche al supermercato visto, per esempio all'Esselunga li avevano. Lavoro un po' l'impasto ancora, date di polso. È un impasto come vedete super morbido, ma non appiccicoso. Allora questo adesso lo faremo lievitare, almeno un paio d'ore. Poi lo stenderemo e faremo il ripieno e poi lo faremo lievitare ancora in forma per un'altra oretta almeno. È lunga ma è buona. Poi che Pasqua sarebbe senza colomba? Almeno le colombe dolci ce le compriamo, ce le regalano, ce le portano a casa gli ospiti, ma questa è proprio da per stupire. Mentre sto lavorando anche questo, non è che me lo sono dimenticato, che voi siete super attenti e io vi amo per questo. Il mio impasto per le brioche, devo dire che ha un primato, è un impasto senza uova. E devo dire che è una bomba e voi lo sapete perché l'avete fatta in tantissime le mie briochine, il mio brioccione. È la ricetta classica delle brioche secondo la mia famiglia. E io ho una famiglia che di brioche se ne intende perché mio padre aveva un bar e quindi vado a far far la nanna al mio impasto. Eccolo qui uno dei miei impasti. Lo faremo uno alla volta, guardate com'è veramente lievitato benissimo. Adesso lo metto sul piano, lo stendo con il mattarello e lo condirò. Lo farcirò, uno lo farcirò con prosciutto e mozzarella e un altro, ho già preso il prosciutto, e un altro con salame e ricotta. Stendo. Sembra già una forma di colomba, vabbè. Questa poi dovrà ancora lievitare, quindi magari con l'impasto, se mi resta l'impasto, farò delle meravigliose briochechine per la colazione. Ok, allora. Farciamo. Voilà. E così anche la mozzarella, che è spezzetto. Eccoci qua. Allora, tolgo un po' di eccesso. Chiudo di qua prima, di lato. Anche di qua, così evitiamo fuoriuscite non gradite. Arrotolo. E chiudo. E così anche dall'altra parte. Arrotolo. E chiudo. Bagnate il lembo con un po' d'acqua. Ok. Nostro. La nostra brioche colomba prende forma. Anzi, la nostra colombrioche. Chiudiamo bene. Prendo lo stampo e lo metto in forma. L'altro impasto dovrà essere un po' più piccolino, ma più largo. Quindi procederemo. Anche perché questo lievita ancora. Il bello deve ancora venire. Prendiamo l'altro impasto e facciamo la stessa operazione. Eccolo qua. Stendo l'impasto, anche questo, con il mattarello. Mettiamo salame. E ricotta. Questa è una ricotta di pecora che già avevo aperta e dovevo far andare. Ma gli metterò anche un tocchetto di mozzarella perché ne ho una mozzarella anche lei aperta. Non vi dico bugie. Metterò un po' di mozzarella così fila. E io sono contenta. Chiudiamo. Anche la mia seconda parte di colomba è pronta. E la vado a mettere nello stampo. Ecco qua. Adesso dovrà ancora lievitare. Un paio d'ore. Io la faccio lievitare tutta. Così viene bella sofficissima e super lievitata. Ci vediamo dopo. Eccoli qua. Vediamo come è lievitata la nostra colomba. E' enorme. Allora, io questo stampo lo preferirei più grande perché così magari viene anche un po' più... Si svilupperà un po' più in lunghezza e non solo in altezza perché questa verrà bella sofficissima. Prima di mettere in forno ho messo qui un tuorlo d'uovo con un po' di latte per spennellare. Prima di infornare, ovviamente, il mio tocco siciliano, il sesamo. Adesso la inforneremo a 200 gradi, forno già a caldo, per una ventina di minuti, scusate. E ovviamente controllatela. Io la cuocerò a 200 gradi però nel forno a vapore. Ta-da! Guardate che colombona! Troppo bella. E' venuta davvero golosissima. Adesso muovo il telefono per farvela vedere anche dall'alto. Guardate. La tagliamo? Sì, la tagliamo. Però prima faccio una bella foto. Guardate.